Questo caccia-zero, uno dei simboli bellici dell'impero giapponese, fu scoperto nel folto della giungla dell'isola di Taroa, ben 50 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. È uno dei tanti relitti di quell'isoletta delle Salomone, la più a est delle basi aeree del Sollevante durante il conflitto, ridotta così a fine della guerra. Anche nel fitto della vegetazione ci sono tuttora relitti, ma questo è all'Imperial World Museum, simbolo di quanto appunto la guerra fosse veramente mondiale e globale, un vero reperto di archeologia dei conflitti. Di questo Spitfire del museo sappiamo invece molte cose in quanto oggetto, che ad esempio fu ordinato nel 1939, che servì nel 609esimo squadrone e che combatté per tutta la battaglia d'Inghilterra. Sappiamo che dal 20 luglio al 7 ottobre 1940 compì ben 59 missioni tra 1200 e 7000 a 500 metri d'altitudine. La livrea è ancora quella originale dell'entrata del servizio. Fino a qui l'impressionante curriculum di questo singolo velivolo, che seppe svolgere egregiamente il suo compito bellico, ma la biografia dell'oggetto, in questo caso, si arricchisce di fondamentali informazioni, incrociando le fonti e i documenti. Nel corso della battaglia ai comandi si alternarono ben 13 piloti, di cui due americani, di questi solo sei sopravvissero fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Con lo Spitfire abbatterono e danneggiarono vari modelli di aerei tedeschi, due oggetti della cultura materiale che possono raccontarci ancora molto.